Raiz mi puoi bannare per un giorno Rocco Braz Ho trovato anche questo video simpatico da vedere Non so perché 25 sosse di personaggi famosi Mi fa ridere XF4B Grazie mille di ripripe Mr. Mar A chi assomiglia Il cavitaggio XF4 è in versione indiana Sotto c'è anche la descrizione Vabbè non c'era nemmeno da dirlo Ma perché devono dire in bianco Non possono anche scrivere solamente Drake Ma perché devono mettere questa cosa qua Ti ho fatto un disegno Era il primo disegno fatto con iPad L'hai visto e non mi hai cagato Ora è... No! Quale? Dove? Manda su Instagram Sec, grazie per i tre mesi Bello Alberto Grazie mille di tre mesi Grazie mille di tre mesi Mi fa molto ridere questo Vai food vlogger Mi fanno ridere tutti È un anno Proprio tre giorni dopo il mio compleanno Bello Ti amo Simone Auguri in ritardo Mi dispiace Vabbè ma perché sono tutti Perché stanno tutti in India In Asia in generale Screen su Instagram Grazie mille di cinque mesi Bentornati Sempre là Sempre loro Ci siamo sempre qua È qui la festa Oh no Scusate Volevo dire festa Il mazo Grazie mille di... No non è qui la festa Mi dispiace È questi decimesi Forse forse Non so se c'è Quanta festa c'è in chat Dalla Quanta festa c'è in chat Cinque Sette Due Due Tre Curio Grazie mille di otto mesi Bentornato Tutto americano Ma che vuol dire Otto Cinque Uomini simili Sosia Morgan Uomo libero Asiatico Simpatico Divertente 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 Vabbè ma questo è un poser Ma questo è un poser Ma posso dirlo Che ci prova palesemente Vuole proprio Cioè gli levi il cappello e i capelli E' fatta Non è più E non è più Johnny Depp Vabbè ma questa è una poserata Cos'era quel rumore? Ah ma che c'ho aperto? Come chiude il whatsapp Prima che faccio i danni? Già una volta ho fatto Vedete il whatsapp Per sbaglio Vabbè Photoshop Porco giuda Questo spacca forte Questo l'avevo visto Io c'ho un amico Che è uguale Ah Jacob Si chiama no? Su Su Twilight Giusto? Ho sbaglio? Troppo forte Virgola Quello arabo Ok Secondo me no Alcuni sono loro Morgan Freeman Sempre Parinaro Messicano Punto esclamativo Idraulico Idraulico Ora io voglio sapere come cazzo Per che cazzo ne sa che è un idraulico Da cosa l'ha intuito? Lo conosce? Bro Raga vorrei tanto parlare con Luis Sal Aiutatemi per favore Fate arrivare la voce a chi Di dovere Non spammerò Quindi se per favore potete aiutarmi Non so Non so Facendo partire un coro Vi ringrazio in anticipo Amici Ringrazio anche il signor Parenti Pentili Sempre in alto Cosa vuoi dire a Bo Che cosa vuoi dire a Luis? Fammi capire a me Riferisco Riferisco No Eh di nuovo No Non spammate tutti No L'originale era Saluta Saluta Antonio No 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 Il coro L'ho letto L'ho letto Mi fai Mi fai capire bene? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Scrivi Scrivi No Ragazzi Non mi fate partire Il coro in chat No Non riesco a leggere Saluta Andò Saluta Andò No E niente Perso nel nulla Ho affossato dai pentiti Quasi 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 Niente Un po' È perduto George George Scroo Incredibile Vabbè Questo era il video che volevo proporvi stasera Ragazzi la live è finita e ci vediamo domani Ha nog Tmedi Sor Così So Scrivi Dbit M Scrivi No, no, no